Il problema però è che questo tema dei migranti è un tema in Europa sensibilissimo, molto forte e che spacca i paesi, tra quelli del nord e quelli del sud, tra i sovranisti che dicono respingiamoli e chi dice no, dobbiamo ridistribuire. Come se ne esce da un tema che appunto già undici anni fa toglieva il sonno a chi sedeva a Palazzo Chigi? Ma purtroppo la questione migratoria è una questione sulla quale non si riesce né a livello europeo né a livello nazionale di intravedere una stabilizzazione di soluzioni che siano effettivamente soluzioni efficaci. Quello a cui stiamo assistendo secondo me è clamoroso sia a livello nazionale ma anche purtroppo a livello europeo dove non si vede la possibilità di uscirne. Io penso che sia un approccio complessivamente sbagliato, è un approccio esclusivamente difensivo, esclusivamente securitario. È incredibile come a me è capitato in questo viaggio che ho fatto dovunque in Europa di incontrare tantissimi imprenditori. Tutti mi hanno detto la stessa cosa, non troviamo mano d'opera, non abbiamo mano d'opera, stiamo chiudendo perché non c'è mano d'opera. In tutti i settori. L'altro giorno mi ha colpito molto il discorso del governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, al meeting di Rimini. Ha fatto un discorso da sottoscrivere dall'A alla Z, in cui ha detto con chiarezza, se qui non affrontiamo la questione dell'integrazione non ci rendiamo conto che la sfida demografica farà sì molto semplicemente che nei prossimi anni non avremo più forza lavoro. E soprattutto non avremo più forza lavoro per riuscire a pagare non soltanto le pensioni, ma per riuscire a reggere un sistema di assistenza che oggi necessita invece dei costi sempre maggiori e un'attenzione sempre maggiore. Ma insomma lo sappiamo tutti che cosa succede. Io, il nostro paese, come altri paesi europei, il nostro più di altri paesi europei, è un paese europeo che sta vivendo questo paradosso, incredibile paradosso, se uno lo pensa con la testa di qualche anno fa. C'è questa generazione di quelli che vanno in pensione adesso, 65 anni, 68 anni, che è la generazione alla quale per decenni è stato promesso, lavora, sgobba e poi ti godrai la pensione. Abbiamo creato un meccanismo tale con l'impatto della demografia, per cui i 65 anni di oggi, i 70 anni di oggi, invece di godersi la pensione, hanno sulle spalle di fatto tre generazioni e ce l'hanno tutte loro sulle spalle, tre generazioni. Hanno la maggior parte di loro i genitori, in buona parte vivi, e che sono ovviamente, devono essere accuditi anche e soprattutto da loro. Hanno i figli che faticano e hanno faticato, spesso e volentieri, in situazioni di grande instabilità e di grande instabilità finanziaria. E devono caricarsi anche i nipoti, che finisce per essere troppo spesso a carico anche loro di questa generazione. Viviamo un tempo nel quale, se non ci rendiamo conto che questo incredibile cambio demografico ha bisogno di un cambio enorme, e questo cambio enorme passa attraverso una nuova concezione dell'integrazione. Quest'integrazione che fino ad adesso non abbiamo capito. Io non posso che essere contento di vedere che finalmente si comincia a discutere timidamente di riforme come lo Ius School, lo Ius Culture, di cui qualche anno fa, quando se ne parlava, venivamo attaccati come quelli... Ma lei ci crede che Forza Italia la voglia fare? Io ci spero, perché penso che sia talmente importante tutto questo che noi che siamo indietro, drammaticamente insieme, insomma, è insopportabile che noi diamo la cittadinanza soltanto a quelli che ci fanno vincere le medaglie d'oro e alle Olimpiadi. È insopportabile questa cosa. Non è possibile che la questione delle medaglie sia il criterio con il quale diamo la cittadinanza agli immigrati. È una cosa vergognosa questa. Allora.